Ciao, oggi cercherò di essere veloce, devo cercare di essere il più breve possibile allo stesso tempo. Ciao, oggi voglio essere veloce. Ciao, oggi vorrei stupirti con la sintesi, quindi parlarti di molte cose nel più breve tempo possibile. Quindi vado subito al punto. Questi sono i grafici settimanali, parto subito da questo. Non è stata una bella settimana, l'Europa ha tenuto, l'Italia un po' meno, meno 2,34, però l'Europa in generale ha fatto un meno 0,21, malissimo il Naldac con un meno 3,83 e anche male lo Standard & Poor's 2,75. Il World ha tenuto con un meno 0,19 e l'Asia più o meno leggermente negativa. Quindi qual è il market mover della settimana? È stata la dichiarazione di Powell di un rialzo dei tassi di 50 basis point, adesso il 4 o 5 di maggio, adesso non ricordo, però ha un paio di settimane. Questo che cosa ha generato nei mercati finanziari? Te lo avevo già fatto vedere, te lo faccio rivedere. Questo era il duplice scenario, quindi un'analisi di scenario in cui questo era l'andamento del, in questo caso dello Standard & Poor's, lo aggiorno così con la freccetta, quindi oggi siamo di nuovo più o meno verso i minimi. Queste erano le due ipotesi di rendimento, quindi questo è un andamento medio di un rialzo dei tassi, diciamo, violento e quindi quello che ha prospettato Powell, quindi uno 0,50 di basis point, quindi un mezzo punto percentuale ad incontro della Fed. Questo proietta le aspettative verso un 3,5% di tassi di interesse per la fine dell'anno. Questa invece è l'ipotesi di un mercato in cui i tassi di interesse sono alzati in maniera molto più cauta, quindi magari 25 basis point, poi la riunione dopo niente e poi la riunione dopo ancora 25 basis point. Ovviamente questa è la peggiore delle ipotesi di quella media, ricordo che la media prende in considerazione tutto e poi divide per gli stessi numeri di campione. Invece in questo caso è il peggiore delle ipotesi. Ti voglio far vedere anche un ragionamento di quello che sta succedendo nei mercati in linea di massima utilizzando due titoli. In questo caso è Amazon. Amazon come configurazione in molti sono gli indici o comunque i titoli che hanno questa tipa di configurazione, cioè abbiamo avuto una grossa crescita e siamo arrivati, nel caso di Amazon siamo ai prezzi del 2020, per cui c'è questa fase di congestione. Che cosa ci dice l'analisi tecnica? L'analisi tecnica ci dice che quando si rompe un supporto i trader tendono a far andare il prezzo al supporto successivo perché escono dal mercato e quindi fanno scendere ulteriormente il titolo e in questa fase qui non si propongono a comprare. Quando arriverà invece su questo supporto ecco che molti trader rientreranno sul mercato perché si compra sui supporti, si vende alla rottura della resistenza e si compra sul supporto. Su questo spazio ci saranno pochi compratori, pochi operatori, per cui il mercato se tendenzialmente è ribassista è più facile che lo sia quando c'è assenza di operatori nel mercato perché non essendoci gli operatori che cosa avviene? Che chi vuole vendere non trova una controparte perché nessuno vuole comprare, quindi sarà disposto man mano a vendere sempre a prezzi più bassi, un po' come se hai una macchina usata che nessuno vuole. Per venderla devi abbassare il prezzo finché non trovi un matto che te la compra. I matti in analisi tecnica arrivano in concomitanza dei vari supporti, ho messo qui 2.500, sono dei valori che io mi auguro che non siano rotti però che hanno questa paura oggi sui mercati per i titoli che sono in questa fase di congestione negli ultimi tempi. Se andiamo a vedere un tipico di questo potrebbe essere lo Standard & Poor's. Lo Standard & Poor's sta lateralizzando praticamente un buon 2021, non sta andando il luglio del 2021, siamo più o meno ai prezzi del luglio 2021, se vogliamo sui massimi di giugno 2021. Ecco sta lateralizzando, in questo caso c'è quel famoso testespalle, dicevamo bisognerebbe riuscire a superare la spalla perché è un segnale bullish, purtroppo in un paio di sedute ce l'ha fatta e poi siamo tornati sotto. E come per il discorso supporto e resistenza, qui sono spariti i compratori, speriamo che si ripresentino su questi livelli che è appunto un supporto molto importante. Invece ti faccio vedere, per esempio, Apple è un caso diverso, Apple è il caso, è un titolo che secondo me ha poco a che fare ormai con i Grow, anche se è il titolo più grande del Nasdaq, perché ormai lavora in un ambito mercato ben sconsolidato, come quello degli smartphone o comunque della telefonia in generale, è comunque leader di mercato, allo stesso tempo è poco indebitata, ha molta liquidità, quindi farlo inserire Apple nel mondo del Grow è abbastanza complicato, ormai ha tutte le caratteristiche di essere un titolo value. Lo si vede anche nei grafici, quando tutti i Grow, come Netflix piuttosto che Facebook, stanno crollando del 40-50%, come si vede Apple rimane su. Proprio per questa sua, secondo me, ormai configurazione più value che Grow, allo stesso tempo ovviamente subirà, se ci fosse un rallentamento a livello globale, delle vendite dei suoi prodotti, quindi comunque è un ciclico come titolo, per cui ha le sue caratteristiche. C'è una crisi, la prima cosa che faccio è il telefonino, lo cambio fra due anni o il prossimo anno, quando sono più propenso a consumare un nuovo telefonino, se non mi si è rotto. Tornando alla configurazione grafica di titoli che possiamo trovare sul mercato, che sono ancora relativamente sui massimi, è proprio questa. Com'è? Questa è una crescita, mentre quello che vedevamo in Amazon era una crescita fatta a gradini, questa invece è una crescita, lasciamolo dire, diciamo conica, mi invento un termine. Come funziona? È un po' la stessa cosa dei gradini, quindi dei supporti e resistenze visti in Amazon, solo che in questo caso è visto in prospettiva. Questo è stato il primo canale di crescita di Apple, io l'ho fatto partire dal 2016, che è stato un minimo importante. Quando si esce, questo canale, questo cono di crescita, diventa una resistenza e fa fatica a ritornarci sopra. Una volta ritornato sopra, si ricomincia a crescere all'interno di questo cono. Nel momento in cui si riesce a rompere, si va, si crea una nuova situazione. In questo caso c'è stato proprio uno strappo e una nuova fase di crescita è stata fatta al di sopra di questo supporto dinamico. Ecco, è molto importante non ritornare sotto questo supporto dinamico, altrimenti si rischia poi di dover andare a toccare prima questo e poi quell'altro, poi ovviamente saranno in divenire. E quindi queste sono le due situazioni che nel senso, in questo caso, io ti ho fatto vedere Apple, è la situazione del Nasdaq. Il Nasdaq, come si può vedere, io adesso non li ho disegnati, era dentro una crescita, se lo facciamo partire, se vogliamo questo è un minimo importante, ti faccio vedere io come lo disegno. Io parto da un minimo importante, che è questo. Vado a vedere quali sono i punti che sono stati toccati più volte. Ecco, diciamo che potrebbe essere questo. Questo è un canale, lo vado a prendere un altro, ripartendo sempre da qui. Questo è stato un altro canale, quindi a un certo punto c'era sopra, c'è andato sotto, ha fatto da resistenza, nel momento in cui è riuscito a romperlo è diventato un supporto. È diventato un supporto, poi l'ha rotto questo al 2020 e adesso c'è salito sopra. Ecco, in questa crescita che c'è stata, adesso si potrebbe, ecco questa è il Nasdaq, come si vede è il Nasdaq che è andato molto fuori questo cono. Ecco, il rischio quindi qual è che ci vada a ritornare, o almeno a fare da supporto, con il rischio di poi rientrare dentro e quindi andare. Ecco perché io mi metto sempre, ho messo che non è un livello che ci potrebbe essere per quest'estate, i 12.000 punti. Stiamo a vedere, è vero che su questo livello Nasdaq ha perso, ha titoli, tanti titoli che hanno perso almeno il 50%, però ce n'è alcuni grossi come Apple piuttosto che Amazon che stanno tenendo su tutto il listino. Stiamo a vedere, comunque questa è la situazione. Poi in ogni caso siamo in una fase estrema, come si può vedere, di grosso, di grosso, iper venduto, se vogliamo di debolezza dell'indice, ma questa ancora diciamo che debolezza chiama debolezza. Vediamo se ci sarà una ripresa nei nuovi minimi con l'indicatore che non conferma i nuovi minimi. Per adesso io dico, lascia stare il coltello mentre sta cadendo, non lo prendere al bolo. L'ultima cosa che ti voglio far vedere, che purtroppo è, questa è una situazione che sembra un caos, ma è diciamo la Cina. Il lockdown della Cina, queste sono tutte le navi che sono pronte a caricare o scaricare, ma sono ferme nei porti. Io adesso non so se le gialle sono l'import o l'export, le blu e le altre, non so bene come era il colore, l'ho preso da una presentazione, però dall'idea di cosa il lockdown sta creando in Cina. Quindi questo potrebbe dire anche un ulteriore rialzo dei prezzi delle materie prime o comunque dei prodotti semilavorati piuttosto che dei prodotti finiti in quanto non arrivano. Quindi potrebbe essere che il caos della Cina cause a livello mondiale uno shock da offerta o comunque di prodotti semilavorati o finiti, come stavo dicendo. È un'ipotesi, magari se ne verrà a parlare un po' più avanti. Adesso siamo tutti presi da altre notizie. In conclusione cosa possiamo dire? Beh, che aprile sta finendo, non sarà un mese positivo, a meno che l'ultima settimana ci faccia delle sorprese oltre le aspettative, non è una bella cosa questo, quando il mese di aprile negativo, dopo che c'è stato anche un gennaio negativo, i precedenti non sono felici. Quindi prepariamoci, io come dicevo che quello doveva essere un rimbalzo dove ci si poteva mettere a posto i portafogli. Io spero che sia stato fatto, che tu sia pronto per quello che può avvenire. Che cos'è che potrebbe avvenire? L'ultima cosa. Qui ti faccio vedere, adesso questa è una presentazione che ho fatto ieri a YouFinance in occasione di un convegno. Sappiamo che cos'è questo e se il mail go away, non era questo che ti volevo far vedere, ma visto che mi sono aperto qui ti faccio vedere. Il periodo che va da maggio ad ottobre generalmente è positivo nel 60% dei casi, nel 40% dei casi è negativo, mentre il periodo che va da novembre e aprile che è quello che spiega il grosso della performance, lo Standard & Poor's fa l'8,4 più o meno medio anno, ma è un numero messo così, più i dividendi. Il 6,90 invece è quello che fa tra il 90 e aprile, è l'1,50 invece maggio-ottobre. Per cui stiamo entrando in un periodo che non è favorevole statisticamente, questo non vuol dire che bisogna vendere tutto, perché come ti faccio vedere qui è vero che in questo periodo 1000 dollari per 65 anni avrebbero avuto 1750, nel caso invece novembre e aprile 58 mila, ma se tu fossi rimasto sempre investito ne avresti 102 mila. Quindi ribilanciare il portafoglio non vuol dire vendere tutto, assolutamente, ribilanciare il portafoglio. Questo invece è il ciclo presidenziale che ti avevo già fatto vedere all'inizio dell'anno, ti avevo detto più volte che saremmo partiti poco bene, avremmo ripreso per poi scendere nel periodo estivo, quindi non mi chiedere di quanto scenderemo, perché questo ovviamente non lo so, però mediamente questo è stato l'andamento, quindi qui mediamente un meno 2, ci sarà stato chi ha fatto anche più 10 e chi ha fatto meno 20, però questo è il media dell'andamento, per poi riprenderci per fine dell'anno. Quindi non credo che sia una questione di recessione o quant'altro nel mondo, non la vedo ancora così, i dati del World Bank sono positivi, quindi non vedo ancora quella stagflazione di cui tutti temono, è normale, l'inflazione invece c'è, il rialzo dei tassi è scontato, quindi ci potrebbe essere un'assenza di compratori nei prossimi mesi che potrebbe far andare l'equilibrio del mercato verso una fase di stanchezza, ma non sarà altro che magari una presa di beneficio, comunque un qualcosa di positivo che ci vuole, un momento di consolidamento dei mercati dopo i forti rialzi avuti negli ultimi 10 anni. Ovviamente rotazione settoriale, value, sui grow e forse io direi anche Europa sull'America. Grazie dell'attenzione, se il video ti è piaciuto metti un like, se hai bisogno di approfondire qualsiasi argomento puoi scriverlo nei commenti oppure scrivermi agli indirizzi che ti riporto qui di seguito. Iscriviti al canale e al prossimo video. Ciao!